Bravissimi poracci, in molti avete riconosciuto Chulip, uno dei giochi più assurdi mai concepiti, ma Lollo GX è stato il più veloce di tutti, mentre Koaku Gaming, cogliendo appieno il cuore del gameplay del titolo di Kimura, ha riconosciuto il grandissimo classico del rimorchio digitale, Tinder 64, presto anche sull'NSO. Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Sono risposte sbagliate, mi raccomando, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con numeri che fanno girare la testa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché? Perché sì. Parleremo infatti della particolare ricezione di leggende Pokémon Arceus da parte della critica, di uno storico traguardo raggiunto da Switch e anche degli ottimi risultati di Xbox nel 2021. Ma non solo, prima di gettarci di testa sulle notizie del giorno, bisogna mettersi in marcia verso la conquista non violenta di YouTube Italia e la fondazione del Poroverso. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle protetiche se siete nuovi e venite a trovarmi anche in live questa sera alle 21.30 per continuare a discutere anche dal vivo. Trovate tutti i link utili in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Un po' a sorpresa Crytek ha annunciato il ritorno di una storica serie. Crysis 4 è entrato ufficialmente in sviluppo. L'annuncio in fondo non era così imprevedibile, visto che con la recente riedizione della trilogia originale era ovvio che qualcosa si stesse muovendo in casa Crytek. Sebbene il reveal sia stato accolto con grande entusiasmo dalla fanbase, è la stessa azienda a mettere le mani avanti, affermando che il gioco è praticamente nelle fasi iniziali di produzione e passerà parecchio tempo prima di poter vedere qualcosa di concreto per Crysis 4. Quindi per ora accontentiamoci di questo teaser, sperando che non faccia la fine di un altro attesissimo quarto capitolo che stiamo aspettando ormai da anni. Ora però possiamo farci la domanda delle domande. Girerà su Switch? C'è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda Call of Duty e una potenziale esclusività su Xbox. Sappiamo infatti che Phil Spencer si è impegnato su Twitter nell'onorare gli obblighi contrattuali tra Sony e Activision stipulati prima della storica acquisizione e ora, grazie a una fonte anonima riportata da Bloomberg, abbiamo un'idea più chiara sull'entità di questi accordi legali. I prossimi tre Call of Duty dovrebbero rimanere multipiattaforma. Si tratterà del nuovo Modern Warfare 2, di Infinity Ward in uscita quest'anno, del successivo titolo di Treyarch il prossimo anno e anche di Warzone 2 previsto sempre per il 2023. Quello che succederà dopo? Chissà, nessuno può dirlo. Dipenderà tutto da come deciderà di muoversi Phil Spencer con la divisione gaming di Microsoft. Intanto continuano i rumor che vorrebbero Sony intenta lavorare sulla retrocompatibilità estesa di PS5 in previsione del lancio del fantomatico servizio in abbonamento Spartacus. O meglio, più che di rumor, si tratta dell'ennesimo bug nel sistema di PlayStation. Ieri numerosi utenti hanno riportato la perdita di tutti i trofei PS4 guadagnati sui propri profili. La percentuale di completamento di tutti i giochi della scorsa generazione era stata azzerata con l'icona PS3 che aveva preso il posto di quella PS4. Situazione che si è risolta con un repentino rientro alla normalità, ma un incidente del genere ha fatto insospettire un po' tutti. Che Sony stia facendo le prove tecniche per aggiungere all'offerta PlayStation 5 un gigantesco catalogo di vecchie glorie? Ma passiamo alle notizie del giorno perché finalmente sono uscite le prime recensioni di leggende Pokémon Arceus, più o meno dopo che tutto il mondo ha già giocato al titolo. Un gioco che promette di dare una svecchiata significativa al brand di Pokémon. I pareri sono tutti estremamente positivi e in molti si sono lanciati in dichiarazioni parecchio altisonanti. Videogame Chronicles, così come Nintendo Life, parlano senza mezzi termini di uno dei più grandi giochi Pokémon di sempre. Il primo affibbia un bel perfect score all'operazione, mentre Nintendo Life un 9 su 10 come valutazione finale. Per rimanere nei confini nazionali, Seidonia ha promosso Arceus su Every Eye, definendola sostanzialmente un'operazione coraggiosa, sebbene non esente da difetti, e più o meno tutti quanti sono allineati su questo giudizio. Leggende Pokémon è quella ventata d'aria fresca che i fan della serie aspettavano da più di un decennio, in grado di stravolgere e superare tante delle convenzioni sedimentate nella serie che col passare degli anni da tratti distintivi si erano tramutate in limiti anacronistici. Con un'ossatura di gameplay sostanzialmente inedita, non tutte le meccaniche funzionano alla perfezione e ci sono momenti ripetitivi, elementi non implementati correttamente e un eccessivo ricorrere al grinding in alcune fasi di gioco, ma il risultato complessivo è quanto di più vicino ai desideri dei fan, che da anni chiedono la possibilità di poter esplorare liberamente un mondo Pokémon. Mi rimane però un solo dubbio, considerando una realizzazione tecnica a dir poco approssimativa, quanti di questi giudizi sono applicabili al gioco in sé e non a un titolo che cerca di allontanarsi da una pesante eredità. I fan rimarranno sicuramente estasiati di fronte a certe conquiste, ma chi ha un occhio esterno alla serie riuscirà ugualmente ad apprezzare questi cambiamenti? Io a questo punto non vedo l'ora di provare il gioco e spero di parlarvene il prima possibile con una prospettiva quanto più distaccata, ma intanto ditemi, a due giorni dall'uscita, che idea vi siete fatti di leggende Pokémon Arceus? Continua la scalata al successo di Nintendo Switch, che seppur non ancora con dei dati ufficiali, secondo le più recenti stime, ha superato le vendite complessive di alcune tra le console più importanti di tutti i tempi. Vediamo questi traguardi nel dettaglio. Prima di tutto però una doverosa premessa. I report ufficiali di Nintendo che usciranno durante la prima settimana di febbraio prenderanno in esame il terzo quarto dell'anno fiscale in corso, il che significa che si fermeranno al mese di dicembre 2021. Per avere un quadro complessivo più dettagliato bisognerà aspettare la fine dell'anno fiscale, perché le stime di vgcharts.com, a cui ci riferiremo adesso, includono anche le vendite delle prime due settimane di gennaio. Per il portale, abbastanza attendibile nelle sue previsioni, il totale di Switch vendute ha raggiunto i 102,81 milioni di unità, un traguardo che farebbe superare alla console ibrida sia i 100 milioni di Wii sia il totale di PS1 vendute, numero fermo ai 102,5 milioni totali. Questo farebbe della Switch la quinta console più venduta di tutti i tempi, con dei risultati equamente distribuiti nei tre mercati principali, con 34,67 milioni di unità negli Stati Uniti, 27,22 in Europa e 23,43 in Giappone. La vera sfida sarà però un'altra. Riuscirà Switch a battere PS4 e poi il Game Boy? La penultima console Sony ha raggiunto dei 116,56 milioni di unità vendute, ma a conti fatti la console è ancora in commercio, mentre la linea evolutiva della storica portatile Nintendo si è fermata a quota 118,69 milioni. Altri 15 milioni di unità non sono certo pochi, ma se Nintendo conta di tenere sul mercato Switch per almeno altri due anni, beh, come risultato non sembra così irraggiungibile. Voi cosa ne pensate, poracci? In questi giorni si è parlato tanto dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, un evento che potrebbe sconvolgere gli equilibri del mercato. Ma se andiamo a vedere i risultati ottenuti da Xbox lo scorso anno, ci possiamo rendere conto di una cosa. La trasformazione è già in atto e il brand Xbox non è mai stato così in forma. L'analista del settore, Daniel Hamad, ha riassunto ed analizzato il report finanziario di Xbox per quanto riguarda il 2021. La divisione gaming di Microsoft ha registrato un guadagno di 16,8 miliardi di dollari nell'arco dello scorso anno, un record che può essere letto da varie prospettive. Innanzitutto è l'anno solare migliore di sempre per il brand Xbox, che batte il precedente record segnato nel 2020. In totale i guadagni rispetto ai 12 mesi precedenti sono saliti di oltre il 17%, i servizi ugualmente sono cresciuti di quasi il 9% grazie al successo del Game Pass e degli ottimi risultati dei titoli first party e i guadagni derivati dalla vendita dell'hardware sono schizzati in alto del 63,3%, cifra che indica approssimativamente 12 milioni di console vendute nell'arco di 12 mesi. Un cambio di paradigma incredibile se si pensa a come il brand Xbox aveva rischiato di morire con la pessima gestione dei primi anni di Xbox One. C'è da dire però che Phil Spencer non ne sbaglia una, dall'intuizione nel proporre un modello economico di next gen che ha fatto diventare le due nuove Xbox quelle che hanno venduto più velocemente nella storia della console, passando per l'aver sapientemente puntato sull'imbattibile offerta del Game Pass, fino ai corposi investimenti nei titoli first party, e qui anche Halo Infinite è l'episodio della serie con il miglior debutto in assoluto, è difficile pensare anche a un solo passo falso fatto negli ultimi anni. E tutto questo senza tenere in conto la mastodontica acquisizione di Activision Blizzard King, con dei dati del genere, che futuro vi immaginate per il brand di Xbox? E questo ora c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno, oppure stasera in live alle 21.30 per continuare questa edizione del TG Poro dal vivo. In ogni caso vi do appuntamento a domani per un nuovo video, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono Poromon, Michele Ercheus, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Per, Nonno, 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 Nonno.